Amici di Milan.soccer, eccoci, buongiorno, buon martedì, buona vigilia, la vigilia di cosa dirà qualcuno? Beh, la vigilia di un'altra partita importante, fondamentale, che si tierrà domani sera a Parigi. Bene, 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 allora, un po' l'abbiamo riconquistato il sorriso, ma ci sono tante scorie che ancora debbono essere smaltite. Di alcune cose parleremo ora, ma parleremo soprattutto di quello che più conta, cioè del nostro futuro. Allora, prima di cominciare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, qui sotto c'è scritto iscriviti, cliccate se volete, è gratuito, ci fa piacere. Se siete veri milanisti, seguite questo canale, il vostro canale, e anche chi vuole dire la propria può commentare, sempre con educazione, però sicuramente siete una parte fondamentale, importante, il cuore di questo canale. E ancora più sotto, link in descrizione, il libro Romanzo Milan. Per veri milanisti non potete non averlo nella vostra biblioteca, iniziamo già a pensare ai regali di Natale, per cui questo potrebbe essere già un pensiero. Ma arriviamo alla cosa che più conta, come dicevo, arriviamo al calcio che viene giocato, al calcio giocato. Chiusa la parentesi di Milan-Juventus, ma attenzione perché avete visto la copertina, c'è una cosa di cui dobbiamo parlarvi tra qualche istante. Prima fatemi ritrovare un amico, un giocatore che stimo tanto, che è tornato con la palla, a toccare la palla, a giocarla, a giocarla, quella vera. E in questo caso parliamo di Ismail Benasser, che poi ha twittato pallone. Come mi sei mancato? È apparso sui profili social Ismail Benasserra, Milanello, per l'Algerino è tempo dunque di tornare al lavoro quello che conta. Ismail ci manchi, ci manca tanto, spero che tu possa essere definitivamente il tassello che riporta questo Milan dove deve stare con dei giocatori veri e non improvvisati. Spero tanto che l'innamoramento di Pioli verso Krunic possa terminare, soprattutto quando rimetterai in campo i tuoi piedi, i tuoi piedi d'oro. Va bene, va bene, va bene, ma dobbiamo fare un appello. Dobbiamo fare un appello a tutti voi perché ieri facciamo un passo indietro. L'altro ieri, domenica sera, una delle tante dichiarazioni fatte dal mister Pioli è stata, come dire, una lamentela. Pioli non lo fa spesso, non si lamenta molto, su questo devo essere sincero. È una persona che tiene molto dentro, che cerca di rispondere con i risultati e questo devo dire che lo apprezzo molto. Però, ad un certo punto, quando gli è stato detto del fallo di Ciao, lui ha risposto 22 falli di gatti sul nostro Leao, poi è stato ammonito solo alla fine, il giocatore, eccetera, eccetera. Insomma, lo sappiamo quello che ha detto. Però poi la Gazzetta dello Sport ha pensato bene di smentire Pioli, quindi di fargli fare una brutta figura, ma questa volta la brutta figura credo che l'abbia fatta più la Gazzetta dello Sport, tra l'altro come sempre. Però ci serve per capire come noi non siamo simpatici praticamente a nessuno, perché dopo una partita commentata da Stramaccioni, con quel ghigno, e poi dopo una serie di menzogne sul gol, che in realtà non è un gol di Locatelli, ma un autogol di Krunic, ecco in tutto e per tutto l'ultimo affondo. A tutta pagina e per tutta la giornata di ieri, Pioli, la marcatura di gatti su Leao, ma i 22 falli di cui parla Pioli non sono 22, ma sono 5. Quasi un terzo dei falli di squadra della Juve a San Siro sono arrivati dal difensore azzurro in missione per fermare il portoghese e richiamato in panchina nel finale per evitare il secondo cartellino. C'è da dire che il Milan è la squadra più cattiva d'Italia, almeno questo è stato detto, perché tante espulsioni tutte concentrate in poche partite. Io non so se è la squadra più cattiva d'Italia, a me personalmente non sembra, mi sembra piuttosto che sia la squadra meno tutelata da parte degli arbitri. Tra i protagonisti che hanno reso avvincente la sfida tra Milan e Juventus c'è sicuramente Gatti. Questo dice la Gazzetta dello Sport, io ho visto solamente un giocatore in totale difficoltà. Se ho criticato Calabria, che a mio modo di vedere ha giocato meglio di Gatti, figuratevi se fossi stato Juventus.soccer, cosa avrei detto di Gatti? Il difensore bianconero è finito sotto i riflettori, dopo le parole di Pioli al termine del match, dal momento che, a detta del tecnico rosso-nero, è stato ammonito solo dopo 22 falli. Ma qui la Gazzetta si esalta e dice che i dati di Opta, voglio vedere quante altre volte ora andrà a prendere i dati di Opta, fanno chiarezza. Il centrale Juventino ha commesso 5 falli dei 16 Juventini rilevati nel corso del match. Anche Allegri a un certo punto ha avuto però paura che il suo giocatore non terminasse la partita, tanto da sostituirlo nei 12 minuti finali con Yui Sen. In un primo momento sembrava che potesse lasciare il campo Rugani, non al meglio, poi l'allenatore ha chiamato Gatti, che era già stato ammonito per un intervento su Leao. Gatti ha tirato fuori un po' di mestiere, bla bla bla, insomma, se ne sono dette tante. Ora, facciamo chiarezza, così, una volta per tutte, a Pioli tutto si può dire, tranne che non sia uno che, scusate, capisca di calcio nel senso che sa riconoscere quando un giocatore fa un fallo o quando un giocatore subisce un fallo, non vanno travisate le parole, perché se vengono travisate le parole di uno, debbono essere travisate le parole di tutti. I 22 falli di cui parla sono falli, 17 falli non fischiati. Io ho rivisto tutta la partita e devo dire che i falli non fischiati sono clamorosi. La chiudiamo qui, la chiudiamo qui solo perché per l'ennesima volta io voglio chiedere al nostro staff, al Milan, che cosa intende fare con la sua comunicazione, se intende solo circondarsi nei propri canali di persone che comunque stanno ad una forma di propaganda inutile, nel senso che propaganda, divulgazione, più che propaganda è un'altra cosa, divulgazione, divulgazione nel senso che ci danno notizie della quotidianità, ma noi abbiamo bisogno di contare dove bisogna contare e a tal proposito la Serie A ha riassegnato ad Azzon più Sky i diritti TV dal 2024 al 2029, per una cifra che De Laurentiis definisce oggettivamente, tra virgolette, irrisoria, perché ai club siamo molto lontani da ciò che prendono i club nella Premier League. È vero che la Premier League coinvolge un pubblico maggiore, però la votazione che si è conclusa ieri ha visto 17 favorevoli, un astenuto e due contrari. Azzon dunque trasmetterà ancora tutte le 10 gare di campionato, di cui 7 in esclusiva, mentre 3 andanno su Sky. Io mi auguro che così come l'intelligente protesta della Curva Sud per i biglietti del settore ospite che vanno calmierati, anche gli abbonamenti vanno calmierati, altrimenti ci ritroviamo ogni anno abbonamenti da Zon più Sky aumentati, con una qualità decisamente più scarsa della RAI del 1970. E' tutto per adesso, ci sentiamo più tardi con alcune novità, stiamo lavorando su due servizi, uno relativo alle dichiarazioni di Scaroni e uno sempre relativo al calcio scommesse, perché anche lì ci sono delle news. Bye bye!